Immobiliare San Pietro è più di un'agenzia immobiliare. Immobiliare San Pietro è una struttura organizzata e preparata dove gli agenti non offrono solo esperienze ma anche le proprie competenze e specializzazioni. Ci sono specialisti che si occupano di perizi e valutazioni, ci sono persone che si dedicano esclusivamente al mondo delle asti immobiliari, ci sono persone che si occupano dell'impresa, dell'industria e del commercio, ci sono specialisti che preparano dei piani finanziari per interventi immobiliari, ci sono persone che si occupano di terreni agricoli valutando le loro rese e le loro capacità. Questo è quello che fa la differenza in Immobiliare San Pietro.